Benvenuti all'edizione della notte del telegiornale di Telemolise, quella che si chiude un'altra giornata difficilissima sul fronte dell'emergenza Covid. Oggi 65 nuovi positivi in regione con un nuovo record di tamponi processati, sono stati ben 947 nuovi casi quasi tutti in provincia di Isernia con le situazioni più difficili a Isernia, 20 nuovi casi e a Castelpetroso 12 nuovi casi. Ci sono stati poi oggi anche casi positivi al pronto soccorso dell'ospedale di Isernia e negli uffici Asrem di Via Petrella a Campobasso, intanto nuove chiusure di scuole in alcuni comuni. La cronaca della giornata e tutti i dettagli con Anna Maria Di Matteo. Nel giorno in cui l'Italia sfonda per la prima volta dall'inizio dell'emergenza la soglia dei 10.000 nuovi positivi a fronte del numero record di 150.000 tamponi, anche in Molise la curva dei contagi registra un nuovo record, 65 nuovi positivi su 947 tamponi processati nelle ultime ore. La maggior parte dei contagi in provincia di Isernia, 20 a Isernia legati a Clasternoto, 12 a Castelpetroso, anche in questo caso si tratta di un Clasternoto, 4 a Pesche, 4 a Venafro, entrambi Clasternoto, 3 a Forli del Sannio, Clasternoto, 2 a Monteroduni, Clasternoto, 2 a Macchia di Isernia, Clasternoto, 3 a Montenero di Bisaccia, anche in questo caso si tratta di un Clasternoto. E poi un caso a Boiano, Bonefro, Campobasso, Clasternoto, Cantalupo del Sannio, Carovilli, Conca Casale, Fornelli, Macchia Godena, Petacciato, Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Santa Gapito, Sant'Elia Pianisi, Sesto Campano e Termoli. Gli attualmente positivi salgono così a 335, 9 ricoverati in malattie infettive, 568 pazienti guariti, 26 le vittime dall'inizio dell'emergenza. Intanto, tra i nuovi positivi registrati nelle ultime ore, c'è un dipendente dell'ufficio ASREM di Via Petrella a Campobasso ed un infermiere asintomatico del pronto soccorso del veneziale di Isernia, già posto in quarantena. I locali del reparto sono stati sanificati, mentre i colleghi e i medici sottoposti a tampone sono risultati negativi. In queste ore, intanto, si susseguono le ordinanze di chiusura delle scuole, soprattutto nella provincia isernina. A Isernia, il sindaco da Pollonia ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 17 al 26 ottobre alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII nel quartiere San Lazzaro, a causa della positività riscontrata in un collaboratore scolastico. Scuole chiuse per un'altra settimana e dunque fino al 23 ottobre a Castelpetroso lo ha deciso il sindaco Michela Tamburi, che ha firmato una nuova ordinanza. Intanto, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sono dieci le regioni con un rischio definito alto per la tenuta della terapia intensiva. Si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Un elenco nel quale non compare il Molise, che insieme a Trentino e Basilicata non ha posti letto occupati in terapia intensiva. Intanto oggi l'ASREM ha reso noto l'elenco delle donazioni ricevute durante l'emergenza coronavirus, in particolare da marzo a settembre. Complessivamente sono arrivati fondi per 824 mila euro, sono stati spesi finora a 745 mila euro, dunque restano in cassa ancora quasi 80 mila euro. E a proposito dell'azienda sanitaria, attraverso un avviso destinato agli infermieri in servizio, l'ASREM ha varato misure di rafforzamento su fronte del Covid. Al fine di implementare le analisi diagnostiche e la maggiore somministrazione di tamponi, l'azienda ha chiesto la disponibilità del personale infermeristico a lavoro straordinario anche nei giorni di festa. Novità anche sul fronte delle infrastrutture, con la realizzazione di 5 pensiline in legno per facilitare l'accesso dell'utenza nelle strutture dove si effettuano i tamponi. Pasquale Di Bello su questi temi ha intervistato il direttore generale Florenzano. Vediamo. La seconda ondata della pandemia è purtroppo una realtà e davanti alla crescita esponenziale del Covid-19 crescono le misure precauzionali e diagnostiche messe in campo dall'azienda sanitaria regionale. A tal fine è stato diramato un avviso interno rivolto agli infermieri in servizio a tempo indeterminato per acquisire la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario, se necessario anche festivo e notturno. L'obiettivo è quello di processare il numero più alto possibile e in tempi ristretti di tamponi naso-faringei. A spiegare l'iniziativa è il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. È una manifestazione di interesse. Noi stiamo chiedendo ai nostri dipendenti, agli infermieri a tempo indeterminato, di aderire a questa iniziativa. Quindi con questo appello che rivolgiamo ai nostri dipendenti richiediamo l'adesione volontaria a costituire un pool infermieristico che rafforzerà le squadre per l'effettuazione dei tamponi presso le varie strutture aziendali ma anche presso il domicilio delle persone che avranno delle particolari esigenze e che quindi non si possono muovere. Questa va nell'ottica appunto del miglioramento della nostra potenza di fuoco nell'effettuazione dei tamponi e anche nell'ottica di migliorare il servizio per la cittadinanza. È chiaro che è uno strumento su base volontaria perché noi non possiamo obbligare i nostri operatori oltre l'orario di servizio. Quindi ricorreremo a questa attività straordinaria per migliorare il servizio. Sempre nella direzione di un rafforzamento delle migliori condizioni di operatività del personale sanitario e di accesso dell'utenza alle procedure diagnostiche per il Covid-19 l'ASREM ha disposto la realizzazione di 5 pensiline in legno presso le strutture sanitarie di Campobasso, I Serni e Termoli. Ho firmato un atto deliberativo con il quale affidiamo la realizzazione di 5 pensiline, di 5 strutture in legno da porre presso i principali centri di effettuazione dei tamponi. Questo per migliorare il comfort dell'utenza e queste strutture verranno realizzate a I Serni, a Termoli e a Campobasso. Massima l'attenzione da parte dell'ASREM anche sul fronte della scuola. Sul fronte della scuola ci sono alcune criticità, ce le aspettavamo, erano situazioni che si immaginavano ma devo dire che con grandissima collaborazione sia con l'ufficio scolastico regionale ma anche con i sindaci stiamo monitorando strettamente la situazione riusciamo ad individuare l'insorgenza di alcune positività e quindi siamo in grado di porre rimedio a quello che accade. Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha visitato insieme al suo capo di gabinetto la dottoressa Maria Pia Sabelli gli studi della sede centrale di Telemolise a Campobasso ad accoglierlo il direttore Manuela Petescia, l'editore Quintino Pallante il direttore della testata sportiva di Telemolise Antonio Di Lallo e i giornalisti. Il direttore ha raccontato la storia di Telemolise, emittente leader in regione soffermandosi su quanto fatto dal fondatore il compianto Lelio Pallante sull'eredità raccolta dal figlio Quintino per creare una televisione al passo con i tempi moderna e vicina alla gente. Una tv con ascolti record e numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni per la qualità dell'informazione offerta in ogni circostanza. Il questore professionista che ha maturato vasta esperienza in diversi ruoli di rilievo nella polizia si è complimentato e ha evidenziato l'importanza dei mezzi di informazione anche per supportare l'attività della polizia nell'attività di sensibilizzazione e prevenzione come dimostrato durante l'emergenza Covid. Quintino Pallante e Manuela Petescia hanno poi fatto visitare gli studi a Conticchio come vedete nelle immagini illustrandogli come avviene il lavoro in una tv. E proprio a margine della visita il direttore di Telemolise, Manuela Petescia, ha intervistato il questore di Campobasso. Vediamola questa intervista. Il questore di Campobasso ha onorato oggi gli studi di Telemolise con la sua presenza. Noi ne approfittiamo immediatamente per parlare di emergenza coronavirus. Quali i nuovi comportamenti o i comportamenti da seguire? Cosa devono temere i cittadini? Il cittadino non deve temere nulla. Deve temere, dobbiamo temere tutti quanti, della nostra sicurezza, della nostra salute. Ne va di mezzo la sicurezza dell'intera umanità. Quindi noi ieri abbiamo fatto dei controlli in città. Abbiamo visto che gli esercenti delle pubbliche attività hanno capito il valore della regola. Quindi il bar va chiuso alle 24. Alle 21 ci sono delle limitazioni. E poi dico indossiamo la mascherina. Io qua sono entrato in questa bella struttura indossando la mia mascherina. Mi sono igienizzato le mani prima di entrare. E abbiamo una distanza di sicurezza. Quindi lo dico a tutti, lo dico a me stesso, rispettiamo queste tre regole. Sono fondamentali per salvare la nostra vita, ma la vita degli altri. Poco fa ci stava dicendo che nessuna forza di polizia andrà suonando nelle case dei cittadini per sapere quanti invitati ci siano. Quindi responsabilità, ma non c'è questa corsa alla multa. Assolutamente no. Non abbiamo bisogno di far caso. Io l'ho sempre detto e lo dico tuttora. Le forze di polizia non hanno bisogno di far caso. Noi abbiamo bisogno di far capire il valore della regola. Nel momento in cui uno comprende il valore della regola, accetta le limitazioni alle libertà personali. Lei ha anche due figli giovani. Che cosa consiglia ai ragazzi come questore di Campobasso e come padre? Come padre l'insegnamento che ho dato ai miei figli è quello di essere rispettosi degli altri. Ai giovani dico sono tre le regole fondamentali. Rispettiamole perché abbiamo i nonni, abbiamo i genitori, abbiamo una storia alle nostre spalle. Ci sarà un'organizzazione diversa delle forze di polizia sul territorio? L'organizzazione rimane quella. Stamattina abbiamo fatto un comitato in prefettura presieduto dal prefetto di Campobasso e abbiamo messo a punto degli interventi che sono identici a quelli del primo periodo. Noi vogliamo solamente far capire il rispetto della regola. Cambiamo adesso argomento. Alla vista dei carabinieri che si presentano alla porta della sua abitazione per comunicargli la revoca degli arresti domiciliari e il ritorno in carcere si barrica sul balcone di casa e minaccia di suicidarsi. È accaduto a San Giacomo degli schiavoni dove i militari dell'arma dovevano notificare il provvedimento del magistrato nei confronti di un 48enne perché negli ultimi mesi aveva violato la misura dei domiciliari che stava scontando per i reati di rapina e ricettazione. L'uomo che si trova ora in carcere a Basto ha anche impugnato un coltello da cucina. I carabinieri sono riusciti a farlo desistere dopo due ore di trattative sul posto. Sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco. Adesso cambiamo argomento. Gestione emergenza Covid. Con una sua dichiarazione l'ex presidente della regione Iorio rilancia l'opzione di un unico centro per il coronavirus al vietri di Larino come già chiesto in passato dai sindaci e dallo stesso Consiglio regionale. Vediamo l'intervista di Enzo Di Gaetà. Facciamo ancora in tempo. Questo l'appello lanciato dall'ex governatore Iorio. Facciamo ancora in tempo ad aprire un centro Covid dedicato al vietri di Larino. Non è troppo tardi. Questo il comunicato di Michele Iorio. Sì, io credo che siamo ancora in tempo a recuperare la possibilità di utilizzare l'ospedale di Larino trasformandolo in un ospedale Covid. Quella struttura meravigliosa, non utilizzata o utilizzata in maniera minima, può essere liberata del tutto anche della RSA che può essere spostata nel vecchio ospedale offrendo una possibilità di terapia del Covid sia intensiva, subintensiva ma anche alberghiere per così dire. Cioè per quelle persone che in isolamento non dovrebbero essere ricoverate ma che hanno bisogno di essere trattate in ambienti idonei. Quindi uno spazio enorme di organizzazione che sarebbe un bel esempio per tutto il Paese. Si è voluto seguire un'altra strada farraginosa, sbagliata a mio giudizio ma oltretutto notevolmente illegittima dal mio punto di vista. Ma su questo ritorneremo. Il problema credo che sia venuto fuori ancora di più dai disagi che sta avendo l'ospedale Cardarelli soprattutto per le malattie ordinarie. Non dimentichiamo che c'è gente che deve essere operata, c'è gente che deve essere curata di altre cose dal cuore ad altre patologie importanti e fondamentali. Bene, viene fatto tutto con grande difficoltà, con rinvii continui sulle prestazioni in un ospedale che è l'ospedale più importante della Regione. Questa è una situazione a mio giudizio intollerabile. Ecco, ma secondo lei la gestione del Covid che sta facendo il Molise, insomma che il Molise si sta attuando è quella più giusta? Ma io non ho timore di dire che c'è l'assenza di una politica dell'emergenza. Il Presidente della Regione è responsabile dell'emergenza Covid. Non mi risulta che abbia fatto una direttiva in tema di riorganizzazione dei servizi. Il problema dei tamponi può essere risolto in maniera più utile, per esempio utilizzando tutti i laboratori degli ospedali pubblici del Molise, non uno solo. Per esempio utilizzando anche i prelievi drive-in, facendo convenzioni con i laboratori privati soprattutto per i tamponi rapidi che hanno fatto in altre regioni, magari stabilendo prezzi accessibili 20-25 euro per un tampone non 70-80 quando invece costa ai cittadini che si rivolgono al privato. Assumendo personale in maniera adeguata, perché dovete sapere che i tamponi nel Molise vengono trattati o processati, come si usa dire oggi, da due persone, solo due persone per tutta l'organizzazione. Io credo che c'è da fare di più. Non si può intestare la responsabilità a chi deve eseguire, cioè ai dirigenti dell'ASREM. La responsabilità è l'assenza di una politica, di chi si assume la responsabilità di fare almeno un atto in questa regione che non sia la chiusura dei negozi o dei bar. Io credo che il Presidente Toma non sta assolvendo appieno i suoi doveri. Il distanziamento e le mascherine nelle aule scolastiche non servono a nulla se poi i ragazzi stanno ammassati in gruppi di 50 nei pullman che li riportano a casa. Lo denunciano CGL e Cisleville che sollecitano la regione a garantire un servizio sicuro e le ditte a digerizzare i mezzi quotidianamente. Sentiamo Marta Martino. I timori dei dirigenti scolastici e la riapertura delle scuole con la decisione del Governo di ripristinare le lezioni in presenza si sono rivelati fondati. Per quanto tutto il personale, dai docenti agli amministrativi e gli studenti, possano osservare tutte le regole per evitare il contagio da coronavirus, è il trasporto dei ragazzi da casa a scuola e viceversa che è rimasto un punto cruciale e dolente. A denunciarlo sono i sindacati CGL e Cisleville. L'immagine proposta dal Governo di una ripartenza generalizzata della scuola in sicurezza non sempre corrisponde alla realtà molisana, denunciano. Anche in ambito locale assistiamo a quotidiane lamentele da parte di studenti e lavoratori costretti a raggiungere gli istituti su autobus stracolmi ed i genitori arrivati in qualche caso a manifestare per rivendicare il diritto ad un trasporto scolastico adeguato, vista l'assenza dello scuolabus che rischia di compromettere il diritto allo studio. I punti critici sono diversi, segnalano i sindacati e le cose da fare per la sicurezza dei ragazzi, delle loro famiglie e del personale scolastico sono tante. Sarebbe necessario sottoporre a screening non solo il personale scolastico, ma anche gli alunni e tutti coloro che gravitano intorno, operatori dei trasporti, delle mense, dei servizi pre- e post-scuola, gli assistenti educativi, gli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti, ma la cosa fondamentale sarebbe quella di assicurare agli studenti un servizio di trasporto pubblico sicuro, anche da un punto di vista igienico-sanitario. Ammassare 50 ragazzi su pullman con percorrenze anche superiori ad un'ora, senza limitazioni e controlli, rende vane tutte le iniziative di distanziamento adottate all'interno della scuola. Abbiamo fatto presenti alla Regione Molise, scrivono CGL e Cislewil, che i mezzi andrebbero sanificati ogni giorno. Allo stato attuale non è possibile sapere quando e con che cadenza l'igienizzazione dei bus viene effettuata. Inoltre c'è da sottolineare che sui mezzi pubblici viene superata la capienza del limite massimo dell'80%, e inoltre manca a bordo il personale che possa controllare che tutti indossino la mascherina. E adesso andiamo sulla costa per parlare di ferrovie. C'è un nuovo stop al progetto di raddoppio ferroviario della Termoli-Lesina. Il Ministero chiede a RFI di rivedere il progetto, bocciando non solo le barriere antirumore previste, ma chiedendo anche di rivalutare l'impatto dell'opera sulla biodiversità del territorio. Un punto a favore del Comitato, che aveva ingaggiato una battaglia sulle antiestetiche barriere. Critiche arrivano invece da un esponente nazionale della Lega. Sentiamo Manuela Iorio. Nuovo stop per il raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, un progetto nato sotto una cattiva stella evidentemente, visto che il primo finanziamento all'opera risale al 2008, con il ministro dell'epoca Antonio Di Pietro. A far segnare la nuova battuta d'arresto è la sottocommissione via e vaste del Ministero dell'Ambiente, che ha bocciato le integrazioni al progetto inviate da RFI a luglio, in primis sulla questione inquinamento acustico per le famose barriere antirumore, su cui il Comitato Cittadini in Rete aveva ingaggiato una battaglia con l'appoggio anche delle istituzioni locali. Il progetto prevedeva infatti di alzare per diversi chilometri un muro alto quasi 8 metri che avrebbe attraversato tutto il tracciato termolese entrando nel cuore della città, una parete di pannelli antirumore che avrebbe deturpato il paesaggio. La sottocommissione ha condiviso le proteste ritenendo le barriere previste da RFI non adeguate e chiedendo una nuova proposta. C'è poi anche la questione della biodiversità che verrebbe danneggiata dal passaggio di un numero maggiore di treni. Il ministro chiede in tal senso un approfondimento che riguardi gli habitat di tutto il tracciato, con una valutazione degli impatti a breve e lungo termine sulla fauna. Emerge una criticità anche in relazione ai terreni su cui è prevista la galleria in territorio di Campomarino e su cui RFI avrebbe effettuato carotaggi ritenuti dal Ministero non sufficienti. Insomma, viene chiesto alla società di approfondire l'analisi su alternative progettuali che abbiano un minore impatto con la realtà locale. Un punto a favore del comitato che in questi mesi aveva portato avanti la battaglia. Critiche arrivano invece dall'euro parlamentare della Lega Massimo Casanova, che accusa il ministro Costa di fermare il paese, tacciandolo di talebanismo ambientale. Le modifiche richieste a RFI secondo Casanova allungherebbero di altri lustri l'ammodernamento di un'infrastruttura che ferma al 1863 e che impedisce la connessione tra sud e nord in termini di alta velocità e di alta capacità. L'euro parlamentare ha annunciato la presentazione di un'interrogazione urgente. La polizia stradale di Campobasso ha chiuso un'officina meccanica alla periferia di Mirabello Sanitico perché priva delle autorizzazioni. Al titolare è stata inflitta una sanzione di 5 mila euro e i macchinari sono stati sequestrati. Sono sempre più preoccupati i lavoratori dello stabilimento Castellina di Castelpizzuto a seguito della nuova ordinanza della provincia di Sernia che da domani limita il transito sulla provinciale 21 ai mezzi pesanti. Vediamo i dettagli con Barbara Fino. Fortissime proteste da parte dei lavoratori dell'azienda Castellina Santa Croce a seguito dell'ultima ordinanza della provincia di Sernia che chiude la strada provinciale 21 per Castelpizzuto al transito dei mezzi pesanti. Si dicono preoccupati dunque i dipendenti dello stabilimento presenti numerosi al Consiglio Comunale di Longano convocato in seduta straordinaria per le gravi ripercussioni o licenziamenti che potrebbero scaturire dalla interdizione alla statale SP21 dei mezzi superiori alle 18 tonnellate che attualmente trasportano l'acqua molisana in tutta Italia. Quei pesi di tolleranza significano poter praticamente caricare quindi essendo l'unica strada percorribile se ci fermano i carichi non si può vendere quindi di conseguenza non si può produrre e l'azienda non può andare più avanti. I rischi sono che vendiamo meno acqua non possiamo lavorare tutti quanti come stiamo facendo adesso. Anche noi vogliamo la sicurezza nostra dei lavoratori, dei trasportatori e delle persone per cui certamente c'è un'azienda che è un'azienda primaria primaria di interesse nazionale riconosciuta con decreto del Ministero della Presenza del Consiglio Conte che anche durante il Covid rientra tra le aziende primarie e tutelate dallo Stato e che ha diritto di lavorare. Essendo questa l'unica strada credo che ci sono anche, sarà possibile sicuramente troveremo le soluzioni per tutelare tutti. Preoccupato il Sindaco di Longano sul mettere in sicurezza i suoi concittadini ma disponibile nel cercare soluzioni imminenti anche per preservare l'azienda molisana e le tantissime famiglie che vivono grazie all'indotto economico prodotto dallo stabilimento di Castelpizzuto. Vogliamo che il territorio possa godere di sviluppo economico però ripeto il tema della sicurezza stradale è un tema molto importante ma è un tema di importanza anche per gli stessi autotrasportatori perché avere un asseviario sicuro mette in sicurezza anche loro avere un asseviario che ha dei problemi crea o può creare delle problematiche serie. Presente al Consiglio Comunale è anche il Presidente della provincia di Serni, Alfredo Ricci che si è reso disponibile per aprire immediatamente già a partire da martedì un tavolo tecnico con i due sindaci dei comuni interessati e Camillo Colella sulla messa in sicurezza della strada senza ostacolare però il lavoro continuo di un'azienda che porta il Mulise sulle tavole di milioni di italiani. Il segretario regionale di rifondazione comunista Pasquale Sisto ha scritto al sindaco del suo paese guglionesi contestando l'iniziativa organizzata da Forza Nuova per sabato 24 ottobre come cittadino di guglionesi Sisto ha invitato il sindaco Bellotti a richiamare l'autorità nell'applicazione della Costituzione e della legge ordinaria che vietano iniziative qualificate come delitti contro la democrazia e l'umanità. Ancora più preoccupante ha concluso Sisto l'atteggiamento negazionista degli esponenti neofascisti verso il Covid-19. Condivisione è un percorso in comune l'iniziativa organizzata a Campobasso per dare impulso all'inclusione della comunità Rom nel tessuto sociale cittadino una serie di momenti di riflessione e incontro per valutare quanto fatto negli anni e cosa fare attraverso l'azione di una rete sociale ampia tra i relatori anche Santino Spinelli docente universitario ed esponente della comunità Rom di Lanciano. Per noi c'era Tonino Danese. Ribadire il concetto di comunità spalmare il sapone culturale per eliminare asperità e incomprensioni e contribuire senza pregiudizi, moralismi e senza assistenzialismo all'integrazione della comunità Rom nel tessuto sociale a Campobasso dove è radicata da generazioni. È quanto ribadito nel secondo incontro nel capoluogo, nella sala Alfaville dell'iniziativa Condivisione è un percorso in comune in cui applicare un modello di intervento fondato sul dialogo consapevole e maturo tra i servizi pubblici e privati e la comunità Rom. Un confronto con famiglie, giovani ma anche con assistenti sociali, associazioni, scuola, chiesa, mondo imprenditoriale che dovranno far parte di un tavolo di mediazione attraverso una serie di incontri formativi iniziati la scorsa settimana e che vedranno il culmine a gennaio con una mostra fotografica e un convegno nazionale sul tema Molise da terra di internamento a terra di integrazione. È stato organizzato in modo da dare continuità agli interventi che già da diversi anni poniamo in essere per favorire l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa dei Rom con queste attività progettuali i Rom non si devono sentire degli assistiti privilegiati assolutamente no quindi non l'ottica assistenziale ma l'ottica che mira all'autoaffermazione cioè loro devono impegnarsi darsi da fare, decidere di uscire dall'isolamento di cui si lamentano moltissimo e poi su questa loro decisione di inserirsi nella società noi ci aggangiamo tutti gli aiuti necessari perché da soli non ce la possono fare. L'iniziativa si avvale di un finanziamento europeo e vede tra i principali attori il Comune di Campobasso e il CNR Istituto di Ricerche sulla Popolazione e Politiche Sociali Ares 2.0 e Opera Nomadi tra i partecipanti agli incontri anche esponenti della Polizia di Stato tra i relatori il docente di Lingua e Cultura Romani e fondatore di Ucri Italia Santino Spinelli esponente di Spicco a livello nazionale della Comunità e Cultura Rom Quando si include un popolo si include anche quella cultura quell'arte, quell'espressione, quelle tradizioni che fanno parte di quel popolo altrimenti diventa assimilazione ecco i Rom vogliono l'inclusione ma non vogliono l'assimilazione ovviamente dalla parte della comunità c'è molta disillusione perché purtroppo sono stati promesse cose che non sono state mantenute nel corso del tempo dall'altra parte ci sono tanti pregiudizi dovuti alla non conoscenza quindi allora questi due fattori non permettono l'incontro ecco, questo corso non serve a dare lavoro ai Rom o a dare delle prospettive diciamo professionali assolutamente è un percorso per arrivare ad avere ripeto questo tavolo di mediazione perché nel futuro possa generare questa inclusione che tutti noi auspichiamo adesso parliamo di musica perché a Campobasso è stato presentato il cartellone degli eventi organizzati dal Conservatorio Perosi si tratta del Festival delle Percussioni e dei concerti docenti Anna Maria Di Matteo ha incontrato il direttore Vittorio Magrini Nonostante il Covid il Conservatorio Perosi di Campobasso c'è, lavora e anzi ha organizzato dei cartelloni di eccellenza partiamo subito dal Festival delle Percussioni Sì certo il Festival delle Percussioni che è stato più volte sospeso e poi riprogrammato a causa delle note vicende legate all'emergenza sanitaria questa volta inizia inizia sul serio dal 16 al 18 ottobre è l'undicesima edizione ed è sicuramente uno dei punti fermi della nostra produzione artistica e musicale quest'anno poi riveste una particolare attenzione per noi particolare importanza perché all'interno del Festival abbiamo il rinnovato concorso Marzio Rosi intitolato al nostro amatissimo docente che non c'è più concorso di composizione che ha viste selezionate tre opere che saranno eseguite appunto all'interno del Festival su 12 partecipanti provenienti da tutta Italia e poi abbiamo un concerto dedicato a un nostro altro amatissimo collega che è scomparso esattamente un anno fa Cristoforo Pasquale docente titolare della cartella appunto di percussione nel nostro istituto accanto al Festival delle Percussioni mi piace anche segnalare la stagione dei concerti dei docenti anche questa più volte spostata in avanti nel tempo e questa volta siamo riusciti a partire finalmente si tratta di dieci concerti di nostri docenti che si daranno fra l'auditorium dell'ex Gil e il Stato Savoia e due chiese della nostra regione ricordiamo che entrambi gli eventi comunque si svolgeranno nel mese di ottobre sì, tutto ora termine entro il 31 ottobre parliamo del Festival delle Percussioni le date e dove si svolgeranno? si svolgeranno dal 16 al 18 ottobre fra il Tarro Savoia la casa patronale di la residenza patronale di Ripa Limosani che gentilmente ci ospita nella serata del 17 e di nuovo al Teatro Savoia per la serata finale invece per quanto riguarda i concerti docenti? nei concerti docenti appunto abbiamo alcuni concerti in Alteatro Savoia altri all'auditorium Gil e due concerti uno nella chiesa madre di Capracotta un concerto per tromba ed organo e un altro organo e flauto nella chiesa di Morrone del Sannio bene, con gli eventi del Conservatorio Perosi di Campobasso si chiude la nostra edizione della notte io vi ringrazio per averci seguito vi ricordo domattina dalle 7 il primo Tg è la rassegna stampa grazie ancora buonanotte grazie